Etre Periscia, soddisfazione a metà o comunque soddisfatto per questo punto? Peccato per questo gol che abbiamo preso perché secondo me abbiamo giocato una buona partita, soprattutto primo tempo. Poi siamo preparati per questa giocata che fanno loro, sono una squadra che ha la fisicità e poi secondo me abbiamo fatto bene, solo questo gol che loro hanno fatto è stato un po' tipo peccato perché potevamo fare anche meglio se vincevamo questa partita, sarebbe bello. Ecco Eterit, l'Udinese voleva riscattare la pesante sconfitta subita a Bologna, ha cercato di battere l'Atalanta, non ce l'ha fatta. No, perché noi siamo una squadra forte e poi per battere l'Atalanta devi avere tanti gioci, forse possibilità o anche un po' di fortuna perché noi stiamo facendo veramente delle grandi cose però adesso che sono rimaste poche partite dobbiamo concentrare soprattutto nella prossima che giochiamo contro Milan, una partita forse può essere anche decisiva.